Una voce inconfondibile, un tratto distintivo ma che rischiava di essere perso, quello del cantante di Living on a Prayer. E si potrebbe dire che restando nella suggestione religiosa possa avere ringraziato per non aver perso questo suo dono. John Bon Jovi, dopo che una malattia alle corde vocali, per molto tempo non gli ha permesso e forse anche non gli permetterà più in futuro di raggiungere certi acuti. Certo nel documentario in quattro episodi su Disney Plus ad aprile si è parlato molto anche di questo ma non solo. Per esempio degli inizi nel New Jersey e del mito di Bruce Springsteen. C'è un lato da sex symbol ma ci sono anche spazio per alcol e droghe che hanno fatto deragliare alcuni pezzi interi della band dei Bon Jovi mentre lui, John Bon Jovi, come un Paul McCartney americano cercava di stare sobrio per salvaguardare la voce per l'appunto e non vedersi bruciare gli amici davanti agli occhi con il bassista Alec John Sack, purtroppo, che non ci ha riuscito. Ci sono poi i soldi che danno alla testa, lo sfinimento di tournee insensate volute da manager, come dire, succhi a sangue. Quando ho visto il film di Bats Lerman su Elvis mi sono immedesimato tanto. Quelle cose noi le abbiamo vissute, ha raccontato appunto. Quando ci siamo messi in moto per realizzare il documentario, l'obiettivo era essere introspettivi e onesti, ha spiegato ancora l'artista. Sapevo di non volere una banale storia sulle contraddizioni della fama, ma qualcosa di autentico. Lavorare con il regista Gotham Copra, che non aveva mai realizzato documentari musicali, mi ha permesso di essere sincero e di fidarmi di tutto il processo durato due anni. Spero che lo spettatore capisca che il successo arriva solo con il duro lavoro e col sacrificio, ha aggiunto. Ma nelle oltre quattro ore di Thank You, Good Night, The Bon Jovi Story, non c'è soltanto sacrificio, c'è anche un pezzo di vita. Una vita di 62 anni, di un uomo che conta gli dei il 7 giugno e che pubblicherà un nuovo album intitolato Forever, ma che non sa più se potrà salire sul palco, prendere dritto di petto l'urlo del pubblico e urlare 1, 2, 3, 4, prima che il rullante faccia partire ancora una volta il suo show. Il documentario in parte è focalizzato sui miei problemi, alle corde vocali, ha spiegato ancora sul processo di riabilitazione, fare musica è stato il lavoro della mia vita e volevo che il pubblico gettasse lo sguardo al di là del sipario, verso la verità della nostra vita. Un po' di divertimento durante i concerti, ma per il resto tanto lavoro, non c'è nulla di più, ha raccontato ancora. Bruce Springsteen nel film dice una cosa molto importante, John Bon Jovi scrive canzoni fatte apposta per essere cantate da 20.000 persone in un'arena. E allora scegliamone una di canzone dal vasto repertorio, si tratta di Never Say Goodbye, una canzone proprio della sua band, scritta da lui e anche da Richie Sambora. Fu tratta come quarto estratto e ultimo dal terzo album in studio del gruppo, Slippery One Wet, nell'agosto del 1987. Non riuscì a raggiungere la top 10 della Billboard Hot 100, come le tre precedenti hit estrate dal disco, però si piazzò comunque alla posizione numero 21 della Official Singles Chart nel Regno Unito. La canzone è famosa per essere stata la prima vera e propria power ballad della band, genere di cui tra l'altro i Bon Jovi diventeranno dei veri specialisti negli anni successivi. Per questo motivo il brano è in netto contrasto con diverse altre tracce di Slippery One Wet, dal momento che è cantata con un ritmo più lento e appare decisamente poco ottimista. Il testo infatti affronta la storia di una relazione tra due giovani amanti, il cui desiderio è quello di stare insieme e di non separarsi mai. La canzone è poi entrata a far parte anche del primo Greatest Hits del gruppo Crossroad del 1994. Ecco il momento dunque di riascoltarla insieme.